Buonasera a tutti e benvenuti. Ho pensato di fare questo video di aggiornamento sui BTP Futura intanto perché ho visto che il precedente video ha avuto molto successo e di questo ovviamente vi ringrazio. Insomma è stato così un risultato molto più alto del solito. Evidentemente penso sia anche perché l'argomento interessa molto. Sono stati molto pubblicizzati i BTP Futura, questa nuova emissione e quindi presumo anche che molti di voi erano alla ricerca di chiarimenti. E appunto visto anche che ci sono stati degli aggiornamenti a partire da venerdì ho pensato di fare questo video che sarà molto sintetico e per tutti i dettagli sul funzionamento di BTP Futura e sul mio personale giudizio vi invito a vedere il video che ho caricato qualche giorno fa che inserisco anche qui sotto in descrizione. Essenzialmente spiegavo molto brevemente le caratteristiche di questo BTP Futura che consistono in un tasso di interesse pagato con cedoli ogni sei mesi che è crescente nel tempo col sistema cosiddetto step up. In particolare quattro anni c'è un tasso di interesse, quattro anni uno un pochino più alto e agli ultimi quattro anni uno ancora leggermente più alto. Quindi la durata del titolo è di 12 anni, ogni sei mesi pagano queste cedole che a blocchi di quattro anni sono crescenti. In più per chi sottoscrive in fase di collocamento che durerà come avevo già detto da oggi 8 novembre al 12 novembre a ora di pranzo dovrebbe interrompersi verso le ore 13 salvo chiusura anticipata. Se appunto si sottoscrive in fase di collocamento il BTP Futura e si mantiene per otto anni e poi eventualmente per 12 anni quindi fino alla fine senza mai venderlo a quel punto è anche previsto un premio cosiddetto fedeltà che ho analizzato nel precedente video e che è legato comunque all'andamento del PIL italiano prodotto interno lordo. Diciamo un rendimento che abbiamo visto alla fine comunque molto limitato ecco soprattutto perché richiede il mantenimento del titolo senza mai venderlo per un lungo periodo di tempo e quindi diciamo davo tutta una serie di valutazioni personali ma diciamo anche cercando di fare così un'analisi generale del rischio secondo cui personalmente ritengo non valga la pena investire in questa emissione di BTP Futura che tra l'altro è molto simile alla precedente che io avevo sottoscritto e di cui poi mi ero pentito alla fine ho venduto anticipatamente i titoli e questo perché stiamo vedendo un'inflazione in forte crescita già l'inflazione italiana intorno al 3% quello ufficiale. Si prevede purtroppo, si teme diciamo una crescita dell'inflazione, i tassi dei titoli di Stato nonostante le politiche delle banche centrali e la banca centrale europea in particolare insieme alla Federal Reserve americana di tassi a zero e inondare il mercato di moneta, nonostante questo cominciano pian piano a salire anche i rendimenti dei titoli di Stato emessi. Quindi in questa fase a me sembra questa emissione così un po' un tentativo del governo di accaparrarsi soldi dai piccoli risparmiatori anche perché effettivamente i tassi sono come poi vedremo nel corso del video molto bassi, non è previsto un importo massimo di sottoscrizione per cui in teoria lo Stato tutti i soldi che riesce a così appiazzare di titoli e quindi a raccogliere tutti i soldi diciamo li accetta salvo chiusura anticipata del collocamento che può avvenire comunque non prima di mercoledì. Quindi di fatto a mio avviso appare così come il tentativo di approfittare di questo clima di bassissimi tassi di interesse praticamente a zero per così accaparrarsi delle somme di denaro dei piccoli risparmiatori per un periodo molto lungo di 12 anni e questo è l'aspetto che a me così lascia più perplesso perché 12 anni sono lunghissimi e con i tassi così bassi insomma il rischio se mai è solo che possano salire e se anche dovessero salire di poco i rendimenti dei nuovi titoli di Stato in generale dei tassi di interesse il rischio è che questo BTP futura possa crollare di prezzo insomma in futuro soprattutto nell'ipotesi di un'inflazione crescente tassi di interesse crescenti e questo è molto rischioso se noi dovessimo avere bisogno di vendere il titolo cosa che ovviamente possiamo fare anche prima di 12 anni ma a quel punto ha un prezzo di mercato che non sappiamo quanto sarà e potrebbe essere anche molto più basso poi sì uno dice può tenerlo fino a scadenza incassa anche i premi e allora ecco facciamo così una simulazione di tassi di interesse questo perché perché venerdì il ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato quelli che saranno i rendimenti minimi del BTP futura che non è detto che siano i rendimenti delle varie cedole che poi verranno appunto stabiliti quindi un meccanismo un po' strano cioè venerdì appena prima del collocamento il ministero comunicherà ci ha comunicato questi tassi minimi per i primi quattro anni successivi quattro anni poi gli ultimi quattro anni però non è detto che saranno questi almeno saranno di questo percentuale ma poi alla fine del collocamento sapremo effettivamente quali saranno i tassi diciamo delle cedole ecco ecco quindi vediamo così i nuovi rendimenti allora per i primi quattro anni saranno nello 0,75 per cento lordo annuo poi dell'1,25 per cento lordo annuo e infine negli ultimi quattro anni dell'1,7 per cento lordo annuo quindi diciamo rendimenti tendenzialmente molto bassi secondo me per le scadenze sui quali poi si dovranno applicare ovviamente l'imposta del 12,5 per cento che quindi andrà ulteriormente ad abbassarli a questi diciamo come dicevo si aggiunge l'eventuale premio previsto che sarà legato all'andamento del PIL italiano più salirà il PIL più sarà questo premio questo premio che comunque avevamo visto a tendenzialmente così un massimo e un minimo ma minimo minimo è un 3 per cento massimo è un 6 per cento ecco da ridividere però in tutti i 12 anni quindi insomma abbastanza anche lì limitato e così allora fermo restando che poi non sappiamo se saranno applicati questi rendimenti minimi oppure saranno un pochino aumentati ma nell'ipotesi comunque di questi rendimenti minimi ecco diciamo si possono fare già dei calcoli molto molto banali di quello che sarebbe il rendimento poi alla fine nell'ipotesi di mantenere il titolo per tutti i 12 anni anche quindi incassare l'eventuale premio quindi ecco vediamo che appunto il ecco diciamo qui erano stati fatti vari calcoli e essenzialmente nell'ipotesi ecco di incassare tutto il premio il rendimento sarebbe dell'1,68 per cento lordo annuo quindi applicando poi la tassazione del 12,5 per cento diventerebbe un 1,47 per cento annuo netto quindi diciamo un rendimento che così può sembrare non male nell'ottica ecco di oggi che i depositi bancari non rendono niente eccetera però insomma è abbastanza alto cioè abbastanza basso come dicevo anche considerando che l'inflazione in italia è circa il doppio quindi praticamente noi prestiamo di soldi allo stato esponendoci anche potenzialmente ai rischi non parlo chi ipotizza default quello vabbè è un discorso così più ipotetico e complesso che non affronto parlo proprio di rischi che il prezzo di mercato se dovessimo vendere questo titolo possa scendere anche parecchio sotto la pari ecco quello intendo di perdite e a questo appunto si aggiunge appunto tutta una serie di rischi legate all'inflazione quindi come diceva Redaglio sostanzialmente rischieremmo di prestare soldi e rimetterci di fatto in termini di valore reale dei risparmi quindi ecco era interessante si faceva facevano anche alcuni analisti dei paragoni con alcuni rendimenti attuali dei titoli dei BTP con scadenza intorno al 2033 vedendo che nell'ipotesi ecco del premio di tutto il BTP futura renderebbe un pochino di più si parla di circa lo 0,5% annuo in più mediamente poi diciamo non è facile fare un paragone preciso perché le scadenze non è che le dicono proprio esattamente quindi un pochino più renderebbe il BTP futura rispetto ai BTP emessi va però secondo me valutato un fatto il BTP futura è pensato per i piccoli risparmiatori è legato infatti anche a questo discorso del premio inoltre i primi BTP futura davano un rendimento anche legato all'inflazione italiana guarda caso questo no è neanche la precedente emissione quindi già questo mi fa ipotizzare ovviamente è una mia personale ipotesi che il governo immagina un'inflazione crescente altrimenti il fatto che non li paga non lo so mi fa pensare il fatto anche che le prime emissioni di BTP futura avevano scadenza molto più corta invece la precedente emissione addirittura a 16 anni e questa comunque 12 che sono tantissimi nel mondo finanziario io come dico sempre immaginate il mondo di 12 anni fa com'era magari prima della appena dopo la crisi del 2008 ma insomma comunque parliamo ecco del 2009 ancora non è che in Italia c'era stata una crisi immobiliare finanziaria non c'era la crisi dell'euro la Grecia tutto questo mondo ancora non esisteva per non parlare degli ultimi due anni quindi bloccare i propri soldi per un rendimento così basso per un periodo così lungo non lo so mi lascerebbe perplesso e anche a chi dice sì ma i BTP con scadenza simile rendono un pochino meno è vero ma bisogna anche considerare che sono le banche centrali o le banche commerciali ad acquistare grandissima parte buoni del tesoro la parte dei piccoli risparmiatori è limitata quindi diciamo questi rendimenti bassissimi non sono secondo me sintomo di così una grandissima fiducia del mercato in generale ma sono frutto come si rivedeva di tutta una serie di politiche monetare di straemissione di moneta operata appunto acquistando titoli di Stato oppure dando soldi alle banche che poi possono acquistarli e utilizzarli anche come garanzia quindi spesso il titolo di Stato diventa un mezzo poi per ottenere alti prestiti da usare a garanzia prendere dei soldi che poi la banca ripresta interesse più alti quindi non è che guardano troppo al rendimento del titolo quanto piuttosto magari anche alla speranza così che aumenti di prezzo perché magari la banca centrale ne acquista di più o comunque abbassa ulteriormente i tassi aumenta ulteriormente l'acquisto di titoli e quindi magari compra nel mercato ulteriori titoli facendo ancora più alzare il prezzo quindi magari il rendimento risente di tutta questa logica perversa di questi ultimi anni quindi dire rendere l'uno e mezzo invece che l'uno e quindi ecco è un affare sì ma bisogna valutare se quest'uno e mezzo questo uno sia così un rendimento adeguato considerando l'inflazione tutta una serie di potenziali rischi quindi ecco volevo darvi questo aggiornamento poi ovviamente fatemi sapere nei commenti come dico sempre qui sotto insomma cosa ne pensate le vostre opinioni le vostre valutazioni mi interessano sempre io vi ringrazio e vi saluto ciao a tutti grazie